E' una delle prime scuole dell'infanzia comunali. Si trovava in una condizione di fitto passivo con sentenza di sfratto ed ora è stata trasferita a pochi metri di distanza negli spazi dell'asilo unido Guido Rossa in via della liberazione a Bagnoli. Con il risultato di avere oggi non solo salvato la scuola comunale ed eliminato un debito ma anche di aver creato un polo per l'infanzia secondo i criteri della legge 0-6 anni di nuova istituzione ovvero inserendo i bambini nella scuola dell'infanzia da 3 a 6 anni e quelli più piccoli da 0 a 3 anni in un luogo dove potranno continuare il percorso fino a 6 anni. I lavori sono stati effettuati con fondi del bilancio comunale e realizzati in tempi molto brevi senza interrompere il servizio che comprende anche la scuola a tempo pieno e la refezione.